Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto la moglie Rosa Maria e la famiglia di Mario Cercello Rega, il Vicebrigadiere dei Carabinieri ucciso a coltellate la notte di venerdì 26 luglio scorso in via Pietro Costa, nel quartiere Prati a Roma. Accompagnati dal Comandante Generale dell'Arma, Giovanni Nistri, la mamma, la moglie, il fratello e la sorella del Vicebrigadiere, questa mattina sono arrivati al Quirinale. Il Presidente della Repubblica ha desiderato incontrarli per esprimere il proprio gordoio dopo la perdita improvvisa e prematura del militare. Intanto continuano le indagini per chiarire la dinamica di quanto accaduto. Un buco di 24 minuti, Finegan, Lee Elder e Gabriel Christian Natali-Hort scompaiono per quasi mezz'ora dopo essere usciti dall'hotel per andare all'appuntamento con Sergio Bruciatelli per portargli lo zaino. All'incontro, davanti alla banca Unicredit di Via Cesi, ci sarà una colluttazione di 4 minuti e l'omicidio del Vicebrigadiere. Ma cosa i due ragazzi abbiano fatto prima di arrivare sul luogo del delitto non è chiaro. È uno dei tanti dubbi sulla ricostruzione della Procura che sollevano gli avvocati dei giovani americani indagati per omicidio aggravato e tentata estorsione. Un aspetto che potrebbe essere chiarito nei prossimi giorni dal momento che i carabinieri stanno continuando a esaminare tutte le telecamere della zona. Intanto il Comando Generale ha consegnato al Procuratore aggiunto, Nunzia Delia, e al PM Sabina Calabretta i turni della notte tra il 25 e il 26 luglio, chiarendo che il Vicebrigadiere Mario Cercello Rega era in servizio da mezzanotte del 25 alle 6 del mattino del 26.